Poi Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali che erano con lui nell'arca. Mandò un vento sulla terra e le acque decrebbero. Le fonti dell'abisso e le cateratte del cielo furono chiuse e cessò la pioggia dal cielo. Le acque si ritirarono poco a poco dalla terra e passati 150 giorni si abbassarono. Ai diciassette del settimo mese l'arca si fermò sulle montagne dell'arca. In queste questioni non c'è niente di casuale. L'arca è a 4.350 metri. I padri avevano l'obbligo di portare almeno una volta nella vita i figli a visitare l'arca. Urarto significa creazione di Dio.